La seconda tappa, Aiello-Cormonso, è lunga 17 km ed anche in questa tappa non si incontrano particolari dislivelli. Superato il cavalcavia dell'autostrada, si giunge dopo un chilometro a Crauglio. Poi si passa al lungo ponte sul torrente Torre ed il paese di Versa, per percorrere successivamente l'argine sinistro dell'omonimo torrente. Lungo l'argine si lambiscono i paesi di Fratta e Mariano e si arriva fino al tracciato dell'ex variante ferroviaria che porterà fino a Cormonso. La seconda tappa, Aiello-Cormonso, è lunga 17 km ed anche a Cormonso, è lunga 17 km ed anche a Cormonso. Aiello-Cormonso, è lunga 17 km ed anche a Cormonso, è lunga 17 km ed anche a Cormonso, è lunga 17 km ed anche a Cormonso. Aiello-Cormonso, è lunga 17 km ed anche a Cormonso, è lunga 17 km ed anche a Cormonso, è lunga 17 km ed anche a Cormonso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.